Musica Cari telespettatori bentornati a Primo Cittadino, una delle ultime puntate in vista del nuovo programma di Fanu TV Occhio al Voto. Questa sera ospitiamo il sindaco di Pergola, Simona Guidarelli. Bentornata nei nostri studi sindaco. Grazie. Grazie. Vi ricordo che siamo in diretta e che per parlare con il sindaco potete telefonarci allo 0721 86 14 33 oppure inviare un messaggio al 338 4968 250. Meglio se su WhatsApp così abbiamo tutto sotto controllo. Sindaco, partiamo dalla sanità. Last pochi giorni fa ha annunciato una nuova organizzazione chirurgica, un nuovo tavolo operatorio in aggiunta a quello già a disposizione. Una bella notizia ma ci sono notizie che arrivano anche dal piano sociosanitario della regione Marche con un potenziamento del nosocomio. Ad oggi avete avuto ulteriori informazioni, chiarimenti. Che cosa succederà a Pergola? Beh, l'ospedale di Pergola sarà oggetto di un intervento importante grazie ai fondi PNRR, un intervento alla struttura molto importante per cui questa è sicuramente un'ottima notizia. Rimangono ovviamente le criticità legate poi al personale e ai servizi che sono sicuramente da risolvere però indubbiamente è un'ottima notizia quella di poter avere una riqualificazione, di poter completare la riqualificazione in parte già era avvenuto negli anni precedenti con gli aspetti legati al miglioramento energetico però sicuramente è importante che anche dal punto di vista sismico la struttura venga riqualificata e quindi venga questo intervento. Non abbiamo ancora dettagli precisi sui tempi e su cosa e quando accadrà però ripeto è sicuramente una notizia positiva. Anche dopo le tante battaglie appunto sulla sanità Pergola. Invece il vostro comune è stato anche martoriato purtroppo dall'alluvione, insomma ci sono stati tanti disagi, dal governo è stato annunciato il recupero di alcuni beni culturali e archeologici appunto danneggiati dall'alluvione tra cui uno proprio di Pergola. Sì, Pergola è stata fortemente danneggiata, è toccata dall'alluvione del settembre 2022, in particolare è stato fortemente danneggiato il quartiere delle Tinte. La notizia a cui faceva adesso riferimento è quella di un intervento proprio strutturale sulla struttura, sulla chiesa, un intervento che è sopraggiunto dopo, inizialmente non era stato previsto, abbiamo saputo recentemente di questi fondi stanziati specificatamente, riservati specificatamente alla chiesa e anche lì ecco non abbiamo ancora dettagli di cosa avverrà perché in corso c'erano già degli interventi da parte della soprintendenza con un canale separato. Circa un paio di mesi fa abbiamo avuto notizia che ci sarà invece anche un intervento specifico e quindi attendiamo ecco di conoscerne tempi e modalità. Sicuramente molto è stato fatto riguardo all'alluvione in città ma ancora c'è il ponte appunto di quel quartiere che deve essere ripristinato, deve essere riaperta la viabilità. Da questo punto di vista è previsto un intervento globale per tutto il quartiere e abbiamo sollecitato molto il vice commissario e l'ingegner Babini nel corso del 2023 proprio per arrivare ad una risoluzione completa che tenesse conto sia dell'infrastruttura pubblica del ponte che degli edifici privati in modo da avere una riqualificazione di tutta l'area, cosa che non era fattibile con interventi separati tra loro purtroppo. Invece i residenti sono riusciti a ritornare alla normalità? Non tutti, non tutti, ci sono ancora alcune famiglie che non riescono a ritornare nelle proprie case, che non sono riuscite a ritornare nelle proprie case proprio perché alcune non sono solo state allagate dall'acqua, dalla piena che è passata ma in alcuni casi sono proprio semidistrutte o hanno adiacente del terreno fortemente danneggiato semidistrutto, quindi la situazione era complessa. Per questo abbiamo cercato di sollecitare un intervento globale che tenesse conto delle necessità degli edifici privati e dell'infrastruttura pubblica del ponte e circa 3 milioni e mezzo è la cifra che è stata stanziata per questo. È stata affidata poi da parte della struttura commissariale la progettazione a dei tecnici esterni e siamo in attesa di averne gli esiti per poi poter avere i cantieri nei prossimi mesi. Speriamo che non passi tanto tempo perché queste persone hanno bisogno. Parliamo invece di fondi PNRR, siete riuscite a intercettare queste importanti risorse? Riguardo ai fondi PNRR, oltre ad alcune cifre che abbiamo ottenuto per la transizione al digitale e quindi per servizi da attivare legati al passaggio al digitale, abbiamo un cantiere che sta per partire che è un'importante riqualificazione di un edificio, di un padiglione del nostro villaggio scolastico. Abbiamo la fortuna di avere un villaggio scolastico immerso nel verde, con diverse strutture nel verde e molto bello quindi, che ha però il risvolto più difficile da gestire che essendo molti edifici anche le necessità sono sempre tante. Al momento abbiamo da fondi PNRR la riqualificazione di uno di questi edifici quindi sia dal punto di vista energetico che sismico e il cantiere partirà proprio adesso a breve compatibilmente con le esigenze legate alla scuola quindi alle elezioni e al fatto che in quelle aule solitamente ci sono i seggi elettorali quindi subito dopo si riuscirà proprio a dare il via al cantiere senza creare disagio anche all'anno scolastico. Parleremo poi anche di elezioni ma a fine puntata. Adesso ci concentriamo sulle scuole. Ce n'è un'altra, un'ex scuola a Cartocetto sulla quale volete intervenire? Sì, lì si sta intervenendo proprio in questi giorni perché i lavori partono proprio in questa settimana è un'ex scuola nella frazione di Cartocetto che è data da tanto tempo in disponibilità al circolo, all'associazione della frazione. Sono dei lavori per un importo di 100.000 euro e partiranno proprio in questi giorni e saranno completati nel giro di poche settimane. Chiedo un attimo aiuto anche alla regia perché abbiamo impostato la scaletta in modo diverso facciamo un passo in avanti, visto che parliamo di scuole, c'è anche un intervento importante da parte della provincia perché entro la fine del 2024 gli alunni del liceo scientifico Torelli riusciranno ad avere una palestra più ampia ma anche più sicura. Sì, anche questo è un intervento molto importante, non direttamente nostro come comune ma è un intervento che effettua la provincia perché l'impianto sportivo Caprini Minucci, palestra piscina insieme, l'impianto sportivo che è di proprietà della provincia e in questo caso il cantiere riguarderà la parte relativa alla palestra con la bonifica dell'amianto e la ricostruzione di tutto il volume che riguarda la palestra. È una palestra che viene utilizzata anche dai ragazzi del liceo e quindi la provincia garantisce la fruibilità e le ore sportive attraverso il comune in questo impianto per questo è importante la riqualificazione di quell'impianto per i ragazzi, per la scuola ma anche un po' per tutta la comunità perché è un impianto molto importante per Pergola. L'intervento andrà a inficiare sulle attività della piscina oppure no? Sulle attività della piscina solo per alcuni giorni, proprio solo per alcuni giorni quando ci sarà appunto la rimozione dell'amianto, altrimenti la piscina continuerà a poter essere utilizzata, i lavori si dovrebbero completare, si dovranno completare nel corso del 2024 appunto e stiamo lavorando per far sì che poi nel resto dell'impianto si possano in successione, in rapida successione, realizzare anche altri interventi per arrivare ad una riqualificazione totale e ad un ampliamento del volume totale perché al momento questo intervento importantissimo riguarda però solo una parte. Scendiamo in strada Sindaco, sull'illuminazione pubblica avete svolto gli interventi, altri ne avete in progetto? Sì, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica è in fase di completamento tutto il lavoro relativo al rifacimento di tutto l'impianto, al passaggio a LED, questo è un lavoro, un progetto che quando c'è stato il subentro diciamo a inizio mandato abbiamo voluto rivedere rispetto a come era stato impostato in precedenza proprio pochi mesi prima per accorciare, siccome si è trattato di un project financing, per accorciare il tempo, la durata con cui insomma la città sarebbe stata vincolata, quindi da 30 anni è stato portato a 20 anni e proprio sono in corso in questi mesi, è in corso la sostituzione di tutti i punti luce di tutta la città e l'attivazione diciamo così di nuove zone, in particolare questa che vediamo nella foto è una via spesso che prima era al buio dove abbiamo aggiunto proprio completamente un tratto di linea è una via molto transitata anche a piedi da chi ama passeggiare e quindi ecco era completamente al buio ed è un tratto pericolosa, sì, è un tratto insomma che abbiamo ritenuto opportuno illuminare maggiormente quindi oltre alla sostituzione e il passaggio a LED di tutti i punti luce già esistenti ci sono anche ovviamente in questo caso alcune migliorie che si vanno a fare quando si affronta un intervento così importante e globale Anche per un risparmio energetico, viste le bollette, abbiamo vissuto un periodo in cui erano alle stelle quindi immagino che anche per i comuni sia stata una spesa non prevista in gente Sì, sicuramente l'aumento delle bollette è stato per i comuni un problema molto grande è vero che dallo Stato ci sono stati dei ristori appositi però comunque c'è stato un impatto notevole questo certamente Arriva la primavera, arrivano anche le asfaltature? Sì, allora in procinto adesso riguardo alle asfaltature abbiamo in previsione finanziati degli interventi uno in particolare che riguarda una frazione in località Cappuccini e un altro importante che riguarda un parcheggio, in questo caso non una strada ma un parcheggio in Viale Kennedy che è proprio in prossimità del giardino storico, del semaforo, della zona centrale dell'accesso principale, di uno degli accessi principali alla città e questo parcheggio aveva estremamente bisogno abbiamo dovuto rimandare purtroppo questo lavoro perché negli ultimi anni a parte le complicazioni precedenti del Covid ma con l'alluvione a cui facevamo riferimento prima a fine 2022 abbiamo anticipato dei fondi giustamente per saldare tutte le imprese che avevano lavorato nell'emergenza questi fondi poi nel corso del 2023 ci sono ritornati attraverso la regione perché stanziati dal governo l'ultima tranche insomma una parte ne abbiamo avuti a fine novembre quindi siamo riusciti in quell'occasione a recuperare dei soldi, delle cifre insomma che abbiamo potuto stanziare appunto a fine anno per dei lavori da effettuare adesso in questa primavera quindi approvare il progetto entro fine anno e poi porli in essere adesso a breve purtroppo quel 2023 ha risentito in quanto a investimenti e lavori anche di questo invece le strade appunto che sono state interessate maggiormente dall'alluvione ecco lì è necessario aspettare il governo potete intervenire oppure sono state tutte ripristinate quindi sono sistemate? sì, quelle che sono state interessate dall'alluvione sono state diciamo la viabilità è stata ripristinata penso ad esempio ai ponti in località Pantana il ponte che va verso la frazione di Percozzone due frazioni che erano rimaste Pantana, Serralta e Percozzone isolate dovevano poi gli abitanti dovevano fare una strada alternativa molto lunga molto difficile quindi erano rimasti proprio isolati per un periodo di tempo lì diciamo che la priorità è stata quella di riaprire la viabilità e questo è stato fatto con i fondi appunto con la somma urgenza con le modalità ecco opportune ci sarebbe bisogno diciamo così come dire ci sarebbero degli interventi successivi proprio per ricostruire o ripensare magari quei ponti quei luoghi alla luce anche dell'esperienza che c'è stata insomma tutta quella parte che è successiva non la somma urgenza che ridà viabilità alle persone ma quella parte successiva di ricostruzione deve ancora avvenire perché lì devono ancora arrivare i fondi però la prima parte in quel caso è stata effettuata in tempi molto celeri poi l'attenzione si è spostata anche al quartiere delle tinte come dicevamo prima con l'ingegner Babini nel 2023 sin dai primi mesi abbiamo insistito molto e fatta molta pressione per riuscire a risolvere la situazione del quartiere delle tinte perché lì invece il ponte è ancora chiuso in questo caso il ponte non lascia proprio isolate delle famiglie come avveniva nelle frazioni però è un ponte che bisogna riaprire prima possibile quindi sicuramente anche quello è necessario arrivare a soluzione presto Cambiamo argomento Foro Valerio, qual è il progetto previsto? Sì, nell'edificio di Foro Valerio che è un edificio subito dietro il palazzo comunale quindi in pieno centro storico abbiamo un finanziamento tramite il GAL l'importo totale di 300 mila euro di cui una parte con fondi comunali ma la maggior parte tramite i fondi GAL ed è una riqualificazione dell'esterno e del primo piano, del piano terra soprattutto per adibirlo a un luogo che possa essere multifunzionale che possa essere utilizzato anche per mostre, per piccole esposizioni e comunque a disposizione ad esempio potrebbe essere anche degli stessi produttori nel momento in cui ci sono visite guidate, degustazioni da effettuare ecco è un luogo molto centrale era sede del mercato coperto, non più attivo e quindi l'idea è proprio quella di riqualificarla renderlo versatile aperto alla città sia a disposizione delle associazioni per piccole mostre e esposizioni ma anche funzionale ad accogliere i turisti al coperto Sindaco ci dobbiamo fermare per qualche istante in pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco Siamo di nuovo in diretta nei nostri studi quelli di Fanu TV con il sindaco di Pergola Simona Guidarelli abbiamo parlato insomma di tanti argomenti lavori pubblici, sanità, passiamo al treno che tornerà a sbuffare grazie a un investimento della Regione Marche, è così? Sì, anche per il 2024 sono previste numerose corse turistiche appunto del treno storico io non ho ancora contezza delle date so che la prossima dovrebbe essere prevista per fine maggio ma non abbiamo ancora le date ufficiali Insomma una bella iniziativa anche per ammirare le bellezze del territorio Sicuramente Dal punto di vista turistico il vostro comune è già stato interessato per Pesaro 2024 logicamente quest'anno la cultura della natura sta facendo il giro appunto per tutti i comuni della provincia qual è stata la vostra settimana? La nostra settimana è stata quella che è partita il 19 febbraio quindi abbiamo già completato la nostra settimana dedicata a Pergola all'interno di Pesaro 2024 all'interno del progetto 50x50 che appunto vede ogni paese, ogni città protagonista per una settimana un progetto devo dire molto bello per il quale è sempre doveroso ringraziare il comune di Pesaro ecco l'idea di coinvolgere tutto il territorio è stata molto bella devo dire che Pergola ha risposto credo pienamente a quella che è la filosofia che Pesaro ha voluto ha voluto suggerirci proprio con il grande coinvolgimento da parte delle associazioni, dei cittadini, dei volontari di tutta la comunità perché questo anno così particolare deve essere l'occasione per la comunità per fare cultura insieme, per essere viva, per conoscere anche meglio le proprie eccellenze e promuoverle essa stessa in prima persona durante la settimana le iniziative sono state numerose le associazioni hanno lavorato con i volontari al fianco degli artisti gli studenti come vediamo ecco anche in alcune immagini al fianco appunto di altri artisti quindi c'è stato proprio un coinvolgimento, uno scambio devo dire molto molto bello la settimana è andata bene e il momento principale, l'evento principale è stata l'inaugurazione della mostra l'oro blu al museo dei bronzi dorati perché ovviamente è il luogo principale insomma per la nostra città e rimane il fulcro di tutto quello che è accaduto in quella settimana ecco questa è l'inaugurazione, ma anche di quello che proseguirà proprio perché la mostra appunto proseguirà sino al 15 dicembre e Pergola oltre alla settimana specifica all'interno del progetto 50x50 fa anche parte di un progetto che segue tutto l'anno questo blu il colore della cuccagna in cui Pergola è insieme ad Urbino, Urbania, Borgo Pace, Peglio e Sant'Angelo Invado siamo legati da questo filo blu che quindi percorrerà un po' tutto l'anno e avremo altre iniziative nel corso dei prossimi mesi anche in questi giorni ci sono dei laboratori con gli studenti, con i ragazzi che lavorano insieme a degli artisti per poi arrivare dei momenti di restituzione alla comunità e quindi ecco è molto bello questo cammino non si tratta solo di alcuni eventi da pubblicizzare alcuni eventi in cui raccogliere turisti non è un semplice calendario di eventi come Pesaro più spesso ha ripetuto ma è un processo che si vuole innescare nelle nostre comunità e che abbellisce anche Pergola perché ho visto che avete pubblicato delle foto con delle mimose per l'8 marzo sì, le mimose sono state posizionate all'interno dei vasi blu questo è un progetto che ha seguito in particolare la Proloco insieme poi all'artista Rocco Dubini proprio sempre all'interno di questo blu il colore della cuccagna sono stati realizzati dei vasi blu che sono stati appesi in diversi edifici del centro ma non solo e durante il corso dell'anno oltre ad essere a rappresentare un'installazione artistica in sé questi vasi saranno anche contenitori di oggetti o di messaggi in qualche modo vogliono essere dei punti che uniscono la comunità e sono anche un veicolo per trasmettere qualcosa io colgo l'occasione per ringraziare anche oltre a tutte le associazioni la Proloco per prima ma tutte le associazioni i volontari, le volontarie abbiamo visto scorrere un'immagine con alcuni di loro in uno degli appuntamenti veramente c'è stato tanto fermento, tanta partecipazione ringrazio anche Giovanni Gaggia e Casa Sponge Giovanni è l'artista che ha seguito che segue tutto il progetto Blu il colore della cuccagna e ha seguito tanti dei nostri appuntamenti e quello che insomma Pergola ha voluto mettere in atto questa sì la foto che dicevo c'è veramente tanto spirito di comunità in questo nel mettersi a disposizione e lavorare insieme ed è una cosa veramente molto bella tra poco vado a leggerle un messaggio torneremo anche a parlare di eventi ma abbiamo una telefonata per lei sentiamo chi c'è in linea buonasera buonasera chiamo da San Lorenzo in campo stavo vedendo adesso la trasmissione e la sindaca di Pergola parlava del treno allora io ho un invito anche alla sindaca se possibile di attivarsi già da adesso per pensare a un uso commerciale di quella tratta Pergola-Fabriano perché avere soltanto alcune corte turistiche d'estate non ripaga di tutti gli interventi che sono stati fatti recentemente e l'idea è anche quella di poter collegare al meglio Marotta-Pergola-Fabriano e andare su Roma certo la ferrovia da Pergola a Marotta non c'è ma si potrebbe pensare anche a un autobus veloce non stop Marotta-Pergola questo sicuramente porterebbe in vantaggio tutta la valle del Cesano e anche alle nostre popolazioni grazie, buona serata grazie a lei cosa ne pensa Sindaco? beh sicuramente è in dubbio che la riattivazione della linea commerciale sarebbe un'ottima occasione e ecco pensare da Marotta addirittura a un collegamento molto frequente sarebbe sicuramente importante bisogna però poi capirne la fattibilità e la sostenibilità economica ecco cosa credo non molto semplice allora domande per lei c'è qualche possibilità che la provincia dia una sistemata alla strada Barbanti estremamente importante per Pergola in quanto tutti hanno i giorni tutti i giorni insomma viene percorsa da dipendenti, ospedalieri altri cittadini che vanno a lavorare nella vallata del Metauro? sì, la provinciale dei Barbanti è sicuramente una strada molto importante per Pergola moltissimi la frequentano anche quotidianamente è una di quelle situazioni insomma sulle quali spingiamo sempre con la provincia finché vengano fatti degli interventi e negli ultimi anni sono stati effettuati dei lavori in alcuni tratti anche lo scorso anno se non erro nella metà circa del 2023 in una parte della strada più verso Cartoceto diciamo così nel versante verso Cartoceto so che un altro piccolo intervento verrà effettuato a breve sicuramente non c'è in previsione il rifacimento di tratti molto ampi però ecco continuiamo ad insistere e fino ad ora la provincia è abbastanza come dire risponde abbastanza nel perlomeno intervenire nei tratti più rovinati per limitare i disagi perché veramente è molto percorsa e ha necessità a proposito di provincia che sistema le strade facciamo vedere una foto che è quella inerente anzi due alla Tirreno Adriatico che è passata sabato scorso sindaco sì esatto sabato ecco in questo caso alcuni tratti sono stati sistemati? beh alcuni tratti sì la barbanti a cui facevamo riferimento prima ad esempio era stata sistemata quando da noi c'era stato il passaggio del Giro d'Italia tanti anni fa quindi quello che era stata un'occasione importante per il suo rifarcimento in questo caso il passaggio della Tirreno Adriatico è avvenuto da noi lungo via Le Kennedy proveniendo da San Lorenzo e poi su in direzione Serra Santa Bondio abbiamo rifatto abbiamo sistemato l'incrocio del semaforo principale nella città che è un lavoro che era già previsto ma avremmo fatto tra qualche settimana diciamo che solitamente l'ufficio è sempre attento e propenso a effettuare asfaltature i lavori di questo genere al termine della stagione più fredda e invernale poi in realtà quest'anno non è stata neanche così fredda e non ci sono state tante gelate però insomma diciamo che l'intervento all'interno del semaforo proprio nell'incrocio lo abbiamo solo anticipato di qualche settimana proprio per il passaggio e la provincia poi ha effettuato altri lavori nel tratto di provinciale che passa all'interno del nostro comune Un altro messaggio per lei, problema Pini in Viale Martiri della Libertà con radici pericolose per pedoni e autoveicoli nonché i danni consistenti ai marciapiedi e alla strada è possibile intervenire? Allora Viale Martiri è uno dei viali principali all'interno della città dove ci sono le scuole, supermercati, poi l'ufficio postale, una banca quindi è sicuramente un viale molto frequentato che ha grandi necessità è anche una di quelle situazioni a cui da tempo avrei voluto dedicare una maggiore attenzione però un intervento importante, imponente e molto grande negli ultimi anni per le motivazioni a cui facevamo riferimento anche prima insomma che ci hanno distolto sia a livello di spese che a livello anche di lavoro proprio degli uffici, il Covid prima e l'alluvione poi che ci hanno distolto ecco da alcuni progetti che intendevamo portare a termine ha portato al fatto che non siamo riusciti ancora ad intervenire abbiamo comunque a fine 2023 incaricato uno studio, insomma un agronomo uno studio per la valutazione, intanto il primo passo è quello di fare la valutazione dello stato di salute, diciamo così, di tutte le piante che sono nel viale e da lì poi partire per riqualificarlo e iniziare ad agire ovviamente è un lavoro molto complesso che richiederà molto tempo però siamo veramente ecco, siamo riusciti finalmente a mettere il primo tassello Siamo in chiusura sindaco però ho ancora due cose da chiederle partiamo un attimo dal teatro, lì proseguono le iniziative Sì, a teatro proseguono le iniziative e cerchiamo di renderlo vivo di metterlo a disposizione anche di associazioni per incontri, conveni delle scuole molto spesso il liceo ma anche l'istituto Binotti con i ragazzi delle medie vi si recano quindi anche se con fatica ma cerchiamo di renderlo vivo e a disposizione della comunità in particolare in questi mesi abbiamo attiva anche la stagione la stagione teatrale che come sempre viene curata da Amat in cui si cerca di scegliere le serate seguendo vari principi come dire, dando attenzione al territorio ma anche dedicando una serata ad un nome che sia di fama nazionale insomma più importante, in questo caso proprio la settimana prossima il 19 avremo Simone Cristicchi che è un artista ovviamente molto conosciuto e che quindi siamo onorati di poter avere a Pergola La sera? O il pomeriggio? Sì, la sera Dunque, chiudiamo con il tema inerente alle elezioni perché anche i cittadini di Pergola nel mese di giugno dovranno tornare alle urne e lei sindaco cosa farà? Tentera il bis? Allora, per quello che dicevo prima molte cose sono state distolte da altre emergenze è stato un mandato molto molto particolare quindi diciamo che c'è ancora molto da fare vorrei ancora continuare a lavorare per continuare quello che abbiamo iniziato ad intraprendere e riuscire finalmente a lavorare su quello a cui non sono riuscita invece a causa delle problematiche che ci sono state non abbiamo ancora ufficializzato, stiamo lavorando a questo ovviamente anche ecco alla squadra, alle prossime elezioni non ho ancora ufficializzato il tutto però diciamo che il secondo mandato è veramente opportuno, necessario per riuscire a concretizzare quello che nel primo mandato purtroppo è stato rallentato Sindaco in bocca al lupo, grazie per essere stata qua con noi Grazie a voi Un ringraziamento anche alla regia Riccardo Sore e Cristiana Guerra Noi invece ci rivediamo più tardi alle 20.30 per il telegiornale Occhio alla notizia, tra poco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti